Lei non è sola, avanzi, alla sua destra, alla sua destra, avanzi e faccia molta attenzione, signorina, che cos'è? Che cos'è? Saranno scarico, su avanti, avanzi, avanzi, attenzione alle ragni, ci sono le ragnatele, attenta ai ragni, Sì, i ragni sì, ci sono le ragnatele, ci sono i ragni no, attenta alle ragnatele, attenta alle ragnatele, attenta, davanti a lei, sia serena, avanzi, pianga in santa pace, però avanzi, attenta alle ragnatele, attenta alle ragnatele, attenta alle ragnatele! Grazie a tutti!